La ricorsa alla bandierina di Pisano, valore con effetto ad uscire, colpo di testa a rete, ha pareggiato il Parma, gran colpo di testa di Paci. Il primo corner della partita, il pallone, Elia Parma si parte in vantaggio, grazie a Paci. La punizione per il Parma, arriva il cross, forte in mezzo, deviazione a rete, 3-0 Parma, in mischia la deviazione vincente del difensore Massimo Paci. Grazie a tutti. Pisano scambia con Castellini, effetto al traversone pericoloso, il colpo di testa, il gol! Il gol ha segnato probabilmente Paci, Massimo Paci. Reginaldo, palla dentro l'area di rigore, è il pareggio di Paci, 1-1 al 35esimo minuto. Paci!